Questa relazione è quella scritta prima dei lavori di commissione di bilancio di ieri. Le leggo l'incipit, lei mi ha detto di leggerla, io lo leggo. La relatrice consegna il testo che vuole. Scusi, ma secondo lei, secondo lei, scusi Presidente, le leggo l'incipit. Deputato Borghi, primo ricamo formale, non finisce l'aula oggi, andiamo avanti. E' un ricamo formale e lo avverto, perché non si può rivolgere così alla Presidenza. E' da questa mattina, si sta rivolgendo in maniera opportuna la Presidenza, quindi è il primo ricamo formale, è il primo ricamo fornale. Fiano, Fiano. Deputato Fiano. Deputato Fiano. Allora, è il primo ricamo formale, poi c'è un secondo, poi c'è anche l'espulsione all'aula. Perciò, siccome voglio evitare, voglio evitare, le dico, noi andiamo avanti così. E per favore. Deputato Fiano. Nobili. Io in 12 anni non ho mai sentito dire da un Presidente della Camera, lei non finisce la seduta.